Siamo a Genova in occasione di un incontro molto interessante e anche abbastanza unico nel suo genere che prende il nome di Dimenzia, un incontro che ha voluto esplorare le conoscenze sulla vitamina D e le funzioni cognitive nell'anziano. Ne parliamo con il professor Palumeri che di questo incontro ne è stato l'anima, l'ispiratore e soprattutto poi l'artefice. Allora professore innanzitutto perché l'idea di questo incontro? Da cosa nasce? L'idea di questo incontro nasce intanto dal fatto che la vitamina D che è conosciuto come un ormone che regola il metabolismo del calcio e del fosfore che quindi è implicato nelle terapie dell'osso, di alcune malattie dell'osso, in realtà è un ormone che ha recettori in tutto l'organismo. Per cui negli ultimi vent'anni si sono sviluppate ricerche in vari settori che propongono la vitamina D come possibile fattore di rischio o di protezione rispetto ad alcune patologie soprattutto degenerative importanti quali il cancro, le malattie autoimmunitarie, le infezioni da batteri o da virus e non ultime anche malattie neurologiche come la sclerosi multipla e la schizofrenia. Più recentemente ancora sono emersi dei dati molto interessanti sull'associazione tra vitamina D e declino cognitivo, per cui alcuni dati fanno presupporre che coloro che hanno una situazione di deficit di vitamina D abbiano un maggiore rischio di declino cognitivo con tutte le malattie correlate al capitolo delle demenze. Ecco, sappiamo anche l'altra parte dell'equazione, cioè se dare vitamina D a questi pazienti sortisce degli effetti positivi oppure è un tema che si sta ancora studiando? È un tema che si sta ancora studiando, come si sta ancora studiando addirittura il problema del dosaggio, ovvero sia di quanta vitamina D va somministrata. Recentemente per esempio è uscito un articolo molto interessante sul cancro della prostata in cui si dimostra che la somministrazione di 4.000 unità al giorno di vitamina D, che oggi è considerata in effetti un grosso carico è in grado di ridurre, addirittura far scomparire alcuni reperti tipici del cancro della prostata. Quindi su quanto bisogna dare dipende dal paziente e dipende anche dalla malattia che andiamo a ricercare. Oggi però c'è un certo consenso sul fatto che almeno 800 unità internazionali al giorno di colle calciferolo vadano somministrate. Ecco, hard a esplorare quindi ce ne sono ancora abbastanza. Una cosa però è certa, cioè il deficit di vitamina D è una cosa estremamente diffusa anche in paesi come il nostro che essendo di solito ben insolati farebbero pensare proprio al contrario. Perché c'è questo deficit? Lei qui all'incontro l'ha spiegato, ce lo può dire anche a noi? E intanto bisogna considerare che l'uomo è nato all'equatore e c'è un'enorme differenza tra l'equatore e le nostre latitudini, ovvero sia l'irradiazione solare che è il punto fondamentale affinché si parta per la sintesi della vitamina D. L'irradiazione solare è costante durante tutto l'anno all'equatore, ha le nostre latitudini assolutamente inefficiente per almeno sei mesi l'anno. Da ottobre ad aprile noi non riusciamo, i raggi solari a queste latitudini non sono efficaci. Per cui se andiamo a vedere i dati di concentrazione vitamina D nella popolazione africana li troviamo sempre notevolmente più alti e in più i paesi del bacino del Mediterraneo in maniera apparentemente assurda hanno proprio livelli di vitamina D più bassi dal nord Europa perché nel nord Europa si utilizzano prodotti fortificati con vitamina D. Ecco lei qui nell'incontro ha fatto vedere delle slide molto interessanti su dati francesi, su dati americani dove si vede proprio un gradiente di maggior incidenza di alcune patologie come per esempio la sclerosi multipla proprio in funzione della minore esposizione al sole. È un dato appunto ormai acclarato, vale anche per l'Italia, cosa sappiamo? Sicuramente oggi i lavori che mettono in correlazione prevalenza della sclerosi multipla e vitamina D sono tanti. Questo lavoro francese colpiva anche proprio perché c'era questa diapositiva in cui si vedeva come la prevalenza della sclerosi multipla era strettamente stratificata per fasce di latitudine e quindi in qualche modo di esposizione ai raggi solari per cui chi vive alle latitudini superiori in Francia, alle latitudini maggiori ha un rischio di sviluppare la sclerosi multipla nettamente superiore a chi prende più sole. Ma poi non è solo questo dato, cominciano ad esserci anche dati di intervento su questa patologia. Professore, da geriatra, da geriatra esperto, ci dà tre consigli? Da geriatra esperto, più o meno esperto, da geriatra di fine carriera, sicuramente oggi si sa molto di più rispetto a un tempo, si è capito che soprattutto la popolazione anziana presenta livelli assoluti di carenza di vitamina D e come un buono stato vitaminico D è correlato nella persona anziana a un buono stato funzionale, ovvero sia chi ha livelli normali e elevati di vitamina D ha per esempio una funzione muscolare molto buona per cui rischia meno di cadere e soprattutto rischia meno di avere dei problemi legati a quella che oggi viene spesso definita la fragilità che è una situazione di tutto l'organismo, di una incapacità del nostro organismo in modo da rispondere agli eventi stressanti e che poi determina il declino delle nostre funzioni e quindi poi la morte. Quindi prof, ci dica qualcosa di positivo, non finiamo così, un po' tristemente. No, la cosa positiva è che la supplementazione di vitamina D nell'anziano sicuramente migliora di molto la qualità della vita perché migliora le performance, le performance fisiche, quello ormai accertato riduce l'incidenza di cadute e questi dati preliminari che stiamo validando con il gruppo francese dell'Università di Angers ci potrebbero dire che la vitamina D migliora anche non solo lo stato fisico ma anche lo stato mentale.